Quanto vuoi per questa? Scusate, come dite? Per la tua barca. È di fattura impeccabile. Non è in vendita. Certo che lo è, cara. Nessuno viene da me se non per fare uno scambio. Tremottino siete voi, dunque. Senza alcun dubbio. Sai, non vedevo l'ora di incontrarti. Allora è vero che sei la più bella del reame, non hai rivali. Cosa posso fare per te? Ho bisogno di una cura. Che cosa ti affligge? Il mio cuore è spezzato. Tra tutti i tormenti, il più doloroso. Ma se la richiesta è di farlo innamorare di te, niente, nessuno potrà aiutarti. Non è questo il problema. È che non posso stare con lui. Su questo posso intervenire. Non serve altro. Un istante. Non esistono due amori uguali e identici. La pozione deve essere personalizzata. E dopo che l'avrò bevuta non lo amerò più. La prossima volta che incontrerai la fonte del tuo tormento, non ti ricorderai più nemmeno chi sia. Non mi ricorderò più di lui. L'amore è l'incantesimo più forte e potente che c'è. Quindi la cura deve essere estrema. Definirla estrema mi sembra un eufemismo. Non dare spazio ai ripensamenti. L'amore è una ferita dolente. Ci perseguita nel sonno. Affligge le nostre giornate. L'amore ha ucciso molto più di qualsiasi guerra. Questa cura è un duro. Qual è il vostro prezzo? Basteranno questi. Che ve ne fate? Sono capelli. Che te ne fai tu se non sono più attaccati alla tua testa? Abbiamo un accordo? Lo immaginavo. Bevila alla tua salute. Bianca beve.